Pietro Caruso, PD. Come hai impostato la campagna elettorale e come l'ha vissuta? L'ho vissuta come in tutte le altre campagne elettorali, con l'intento di parlare con i cittadini per farmi dare nuovamente la fiducia. E evidentemente questo è bastato, però per i cinque anni precedenti io mi sono sempre dato l'affare per tutti, non guardando il colore politico di chi mi veniva a chiedere determinate informazioni. Quindi probabilmente questo è servito a farmi fare una campagna elettorale ad persona, ma è anche molto bella per i rapporti umani che ho restaurato. Ecco, nella scorsa consigliatura è stato presidente del Consiglio Comunale. Le piacerebbe ripetere l'esperienza o è pronto a nuove cose? Io sono un uomo di partito comunque a prescindere e quindi poi sarà il partito, sarà la maggioranza che ha vinto fortunatamente nuovamente queste elezioni a trovare l'incarico giusto per me. Se laddove appunto si decidessi di darmi un incarico un incarico. Io sono un uomo di partito, ripeto, accetto le scelte che verrà fatta dalla maggioranza che ha sorretto il sindaco Sambetti. Ecco, ma nel caso dovesse scegliere tra un assessorato o la presidenza cosa preferirebbe? Diciamo che io mi sento un uomo delle istituzioni e comunque sono due cose molto diverse ma similari. L'importante è sempre il rispetto per tutti i cittadini, sempre il rispetto per le istituzioni ed è sempre il rispetto per un lavoro buono per la città. Ecco, due progetti che ora che è stato rieletto vorrebbe realizzare o vedere realizzare a Livorno? Sicuramente la risistemazione di tutta la parte centrale della città che è il fulcro della città soprattutto perché è a due passi dallo sbarco dei moltissimi, fortunatamente, passeggeri e persone che vengono a visitare la nostra città. Quindi sicuramente il rifacimento di quello che è il centro, una città sicuramente più pulita e una città sicuramente ancora più sicura di questo momento.